Ragazzi vi sono fatto un regalo, adesso vediamo come funziona, faccio una piccola recensione e vediamo una bella cosa, adesso lo vediamo insieme. L'ho preso con un'offerta a tempo, praticamente, è un massaggiatore che si può collegare, io lo collego a ogni poltrona da gaming, poi si può collegare anche a sedie, a vari tipi di sedie, diciamo, adesso andiamo ad aprire la confezione e vediamo com'è, chiaramente non posso fare una macro perché è enorme, andiamo a sganciare i ganci, andiamo ad aprire, la camera passiamo un po' così a me lo vedete bene, ok, andiamo a scoperchiare il bestione, che è uno spettacolo ragazzi, guardate che roba, diciamo che non è leggerissimo sta cosa qua, non è per niente leggero, ragazzi, già dal peso che ha, sembra una roba stra-professionale dal peso che ha, ok, questo qua penso che sia il retro, esatto, quindi così, qua ci sono due elastici che vanno messi dietro lo schienale, quindi gli elastici si vanno a mettere in questa maniera, si va a striggere il più possibile, e si fissa alla poltrona, alla sedia, quello che volete, dentro qua c'è una scosta, un cavo di alimentazione, ok, perfetto, il cavo di alimentazione va direttamente dentro la cappotta, e qua praticamente di lato c'è un taschino, praticamente che si può allargare, è bello stretto, con un telecomando, vedete? Quindi qua è molto semplice, la cosa non è per niente complicata, sembra comodo, quindi da montare non c'è niente, ragazzi, l'ho preso in offerta su Amazon, ho offerta a tempo, quindi è un'offerta veloce, poi metterò il link di questo, e di alcuni oggetti, diciamo tipo questo qua, vediamo come funziona, allora, adesso andiamo a provarla, e vediamo, mi do l'olio per l'impressione a freddo, andiamo ad attaccare l'alimentazione, ok, andiamo a levare, qua la roba con la strappa, che bloccava il filo, ok, adesso mi vado a sedere, la seduta ragazzi è confortevole, la seduta, lo schienale, lo schienale non è neanche scomodo, allora, il telecomando da che parte era? di qua, andiamo a vedere, andiamo a vedere ragazzi, proviamo ad accendere, vediamo, ok, tasto si è acceso, vedete qua che è rosso, quindi di qua il rosso si è acceso, proviamo a vedere, massaggio shatsu, praticamente il primo questo qua, massaggio shatsu, vediamo com'è, chiaramente adesso, ok, prima faremo a fare massaggio shatsu, primo, che figata, oddio, che roba sbella ragazzi, sto vedendo, ah, qua c'è praticamente la roba che dovrebbe diventare rosso, quindi in teoria, ci sono capito che dovrebbe diventare rosso, vediamo, facendo così, parte la parte sopra, facendo così, parte la parte sopra, parte ragazzi, è uno spettacolo, ma un microva, che figata, oh my god, questo filo qua, da lungarazzi, si può allungare, c'è sto, una stima e poi, non mi serve a niente, per nuovo, questo lo tiriamo via, poi qua con la forbice lo taglieremo via, vediamo se si può aumentare la velocità, si, si può girare anche la notazione inversa, o se no c'è la modalità qua demo, che io vado a cliccare, questa modalità demo, vedete che se lo mi ha dato in blu, che praticamente fa un random di tutto, c'è questa cosa qua che sta a riscendere ragazzi, bellissimo, no, è una figata assurda ragazzi, c'è il livello professionale proprio, avete presente quando voi andate, tipo, che ne so, al centro commerciale, che c'è quelle passaggiatorie, che tu metti 2 euro, e ti massaccio 5 minuti, è quella cosa del genere, che figata, questo voglio vedere il massimo della potenza, va a scannarmi, e se poi mi guarderò, i vari programmi, allora accendiamo, ok, shatsu, che bello, ragazzi funziona veramente bene, te lo faccio vedere, vedete i movimenti che fa, vedete che vanno a salire, parte dal basso, ma vanno a salire, poi, poi chiaramente, c'è questo qua, per rendere ancora più confortevole, poi, cioè questo qua, che si va a, vediamo come si mette, io non sono esperto, ragazzi, queste cose qua, sicuramente così, questo qua così, penso che sia, allora questo qua, è un po' già testa, potrò trovare come si mette, lo trovo a capire, vediamo il disegno, guardate qua intanto, questa qua deve stare così, per questo qua, lasciarlo così, questo sicuramente deve stare così, per dare ancora un senso di, di tranquillità diciamo, ah, dovrebbe essere così, no, al contrario allora, così, ok, però questo qua, va fissato qua, è trovato, perfetto, questo va fissato così, vedete come vedete, cioè ragazzi, guardate che è figata, cioè è fighissima, questa cosa qua, cioè voi vi mettete qua ragazzi, vi mettete qua tranquilli, i sedenti, vi capate coccolare da sta cosa qua, c'è pure il culo bello morbido, cioè ragazzi, è una figata assurda, se il telecomando poi li trova al punto, per appoggiarlo, cioè veramente ragazzi, sto godendo ragazzi, la mamma mia, la mamma mia, praticamente sta cosa qua, è pure il culo ragazzi, vibra il culo, è pure il culo rilaffa, che è figata, mamma mia che bello, pure il collo, arriva fino al collo, la ragazza arriva, ragazzi, è una figata assurda, poi d'inverno potete anche mettere lo scaldatore, che c'è qua, diventa rosso, e inizia a scaldare pure, mamma ragazzi, di una comodità assurda, ci faccio le live così, cioè veramente, mi ha dormito in live, mi ha dormito ragazzi, mi ha dormito in live, mi ha dormito durante la live, cioè è uno spettacolo, niente ragazzi, alla fine, l'ho pagato, 100 euro l'ho pagato, le vale tutte quante ragazzi, una poltrona, cioè di queste cose qua, cioè la poltrona interna, ti costa tipo un botto, una cosa di queste cose, costa 180-190 euro, 100 euro a sconto del 60%, ragazzi, cioè veramente tanta aroma, vi metto il link in descrizione, se volete comprarlo, compratelo pure voi, c'è l'offerta a tempo, poi ci sarà, tornerà a prezzo intero, niente, scrivete nei commenti, se vi piace il tuo massaggiatore, ragazzi, guarda, è un affare, prendetelo, godete come i ricci, proprio, ciao a tutti ragazzi, alla prossima,